ciao a tutti ragazzi miei ma che cazzo di video iniziamo la settimana con un video stupendo porco dure stupendo dir poco un ottimo veramente un ottimo 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 video perché iniziare questa settimana di duro lavoro come tutte con la scuola e tutto sarà una mob presa in un minuto ecco vuole iniziare inizia il conto alla rovescia farà una mob presa in un minuto e 50 secondi con la k47 su deathmatch a squadra quando l'ho giocata neanche mi ero corto di per la presa così velocemente perché a deathmatch a squadra il tempo vola dato che dopo due minuti ti ritrovi a fine partita anche devo dire dopo se fai la mob subito poi mi entrappa una mano giocata e ti mancia squadra e cioè finire finire la partita in questo poco tempo che staremo insieme a parte di scrivermi alla mob mi parlerò un po' vabbè usavo rinculo e silenziatore con flashbang e sentex sciacallo inflessibile predatore gioco di prestigio assassino estrazione rapida e in ordine guardate qua guardate come tutto degli ungolden tutto nella feed solo degli ungolden cioè e assolutamente un ottimo mob che se se mi fossi spinto anche un po' più in là un po' più fossi stato un po' più temerato avrei preso anche un po' meno tempo però sinceramente non ci stavo molto pensando alla mob pensavo solo a uccidere i nemici ecco un consiglio utilissimo vi posso dare è che quando dovete fare la mob non pensate alla mob pensate a uccidere i nemici ok e la mob la prenderete perché se pensate alla mob la non la prendete se pensate a uccidere i nemici non nel miglior tempo possibile però nel modo più contingente possibile la prendete sicuro 100% infatti qua non pensavo alla mob vedete pensavo solo a stare là e ammazzare cambiare posto e ammazzare tutti poi detto ecco ora ecco la mob ora salta lost purtroppo come sempre quando si fa una bella mob salta lost e ciao a tutti ragazzi spero mettete mi piace spero vi piace ciao 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 ciao